adobe after effect ci dà la possibilità di lavorare per livelli ma come si gesiscono questi livelli e come si aggiungono i vari effetti beh abbiamo per prima cosa visto che ci sono una serie di tool e di strumenti che vengono abilitati all'interno del nostro pannello della timeline quale sono ad esempio per un livello video come in questo caso di una clip video abbiamo i livelli di trasformazione e in questo caso dato che è una traccia audio la gestione della traccia audio dove possiamo vedere la waveform dove possiamo andare ad aumentare o ad abbassare il nostro livello se queste opzioni possiamo gestirle da questo pannello qui ci sono tutta un'altra serie di opzioni che sono quelle relative agli effetti che noi possiamo andare ad applicare alla nostra clip che vengono gestiti invece dal pannello del controllo effetti ma come è possibile applicare degli effetti alle nostre clip beh in modo molto semplice ci basterà selezionare il nostro livello andare nel menu effetti e qui troveremo tutti gli effetti compresi i plugin installati questi ad esempio che ho installato sono una serie di plugin a pagamento esterni di base abbiamo tutti questi effetti che possiamo andare ad applicare organizzati per categoria ci basterà andare ad esempio a selezionare una categoria nello specifico prendiamo uno degli effetti che abbiamo a disposizione cliccandoci sopra questo verrà applicato ora nel nel caso specifico applicato l'effetto specchio che possiamo andare a vedere il suo utilizzo andando a modificare i parametri nel pannello del controllo effetti in questo caso l'effetto ci permette di specchiare una parte dell'immagine andando a decidere qual è il punto centrale con cui noi mandare a specchiare e il grado con il quale vogliamo far ruotare la nostra immagine un effetto molto molto utile per creare effetti visivi molto particolari questo è il modo con cui possiamo andare a controllare gli effetti all'interno del nostro pannello controllo effetti e naturalmente come per tutti come per gli effetti trasformazione sono abilitabili i keyframe quindi l'animazione di ogni singolo parametro ma come possiamo vedere nel pannello della nostra timeline è comparsa una nuova voce che è la voce effetti perché nel momento in cui applichiamo un qualsiasi effetto la nostra clip o il nostro elemento all'interno della nostra composizione tutti i valori potranno essere regolati anche all'interno di questo menu naturalmente nella voce del pannello controllo effetti è più facile andare velocemente a trovare il parametro che ci interessa per modificarlo ma se dovessimo ad esempio andare ad animare un determinato parametro è molto più comodo poterlo fare all'interno della nostra timeline perché abbiamo la copia visiva delle nostre dei nostri keyframe che possiamo andare ad aggiungere ed eliminare anche dal pannello controllo effetti ma all'interno della nostra timeline abbiamo la possibilità di poterli guardare poter decidere se spostarli come spostarli per andare ad animare il nostro progetto questo appena mostrato vale per qualsiasi effetto che noi andiamo ad impostare o ad applicare alla nostra clip possiamo andare tranquillamente a cancellare il nostro effetto applicato come vedete scompare anche dalla voce qui all'interno della timeline abbiamo ancora un altro modo per poter selezionare gli effetti che è quello di aprire il pannello effetti e preset all'interno della nostra interfaccia in questo caso sono nell'interfaccia di default stesso concetto qui abbiamo tutta una serie la stessa serie di cartelle che abbiamo cliccando sul pannello effetti ma con la differenza che per utilizzare il pannello effetti dal menu a tendina dobbiamo selezionare la nostra clip mentre utilizzandolo come interfaccia grafica possiamo andare a scegliere un determinato effetto possiamo anche ricercarlo se noi lo conosciamo ad esempio l'effetto colorama e trascinarlo sulla nostra o clip all'interno della timeline oppure nella nostra composizione facendo in questo modo noi applicheremo l'effetto senza dover per prima selezionare il nostro livello a cui vogliamo applicarlo stesso concetto una volta che abbiamo applicato il nostro effetto possiamo andare a regolare i parametri del nostro progetto per giungere al risultato che noi vogliamo ottenere come per l'utilizzo di photoshop anche in adobe after effect abbiamo la possibilità di gestire i nostri livelli con dei metodi di diffusione gli stessi presenti all'interno come detto di adobe photoshop questi normalmente sono presenti in quest'area della nostra timeline ma in questo caso non li vediamo questo perché adobe after effect comprimere la sua interfaccia per permetterci di guardare meglio la nostra timeline infatti nell'angolo in basso a sinistra noi abbiamo la possibilità di decidere quali parametri voler visualizzare di base è sempre abilitato soltanto il primo menu che è quello relativo ai layer e gli switch mentre il secondo è quello dedicato alle maschere i mate e alle modalità di fusione che adesso andiamo a vedere e il terzo invece andiamo a vedere quello che è la durata di ogni singola clip l'in e il valore di nel valore di out in fotogrammi in questo modo in questo momento perché sto guardando il valore di in fotogrammi perché questo può essere impostato noi possiamo decidere se guardare il valore in fotogrammi oppure guardare il riferimento in timecode questo si fa con molta semplicità andando sul valore in alto a sinistra della nostra timeline mantenendo premuto il tasto command o control e cliccando e cliccandoci sopra questo switcherà la visione da timecode a frame quindi in questo caso noi stiamo guardando il numero dei frame in questo caso stiamo guardando il timecode dipende dal tipo di lavoro che si sta facendo e si sta e si sta affrontando se è meglio lavorare con un timecode oppure con i fotogrammi come detto quindi abbiamo la possibilità di andare ad utilizzare i livelli di fusione e dato che l'interfaccia di after effect è molto intelligente possiamo tranquillamente abilitenere abilitato soltanto la parte relativa agli switch e ai parenting per poi cliccare su questo pulsantino per avere uno switch delle funzioni e andare in quelle che sono le modalità di fusione e le modalità di maschere ricliccando di nuovo sullo stesso pulsantino questo toggle possiamo tranquillamente switchare tra le modalità senza dover tenere aperte tutte quante e così facendo ingombrerebbero parecchio spazio noi invece andiamo semplicemente a utilizzare questo pulsantino per ottenere lo switch i metodi di diffusione sono gli stessi presenti in adobe photoshop e per chi non li conoscesse abbiamo quelli di moltiplicazione quelli di addizione e poi sotto purtroppo non li vedete a schermo quelli di overlay e quant'altro è lo stesso identico menu che troviamo all'interno di qualsiasi software di fotoritocco quindi possiamo utilizzare i metodi di diffusione io in questo caso ho messo sotto al mio livello della mia clip un'immagine un solido completamente verde e grazie ai metodi di diffusione possiamo andare a creare delle composizioni molto particolari nonché andare a lavorare molto con gli effetti visivi e con la motion graphics